Dovevo fare un salto toccata e fuga per prendere su due libri che avevo lasciato qua e ho avuto un contrattempo a casa e ho detto stiamo qua, tornerò a Zoom mercoledì è stata meglio che non sia venuto qui È la prima volta che vede quel che resta di quello che fino all'altro giorno era a casa sua Poteva esserci anche lui sotto quelle macerie Avrebbe dovuto tornare a Padova nella casa in cui abitava con altri tre ragazzi lunedì Matteo si sente molto fortunato Una serie di impegni ha evitato che venisse da Vittorio Veneto dove risiede con la sua famiglia qui a Padova Nello scoppio ha perso anche il suo libretto dell'università Tutto, sì, avevo lasciato magari le cose che mi servivano per studiare per i primi esami me le ero portate dietro, altre che ho detto ho l'esame un po' più verso fine febbraio le lascio qua, le recupero più tardi e non so, non recupero più insomma poi vestiario, vario, strumenti per la palestra e anche il libretto universitario che adesso vorrò informarmi per rifare o vedere cosa mi dicono Assicurano che la casa era in ottime condizioni le manutenzioni venivano fatte regolarmente solo un mese fa erano state controllate le prese della corrente Perché la manutenzione era stata fatta, quella da caldaia annuale forse dovevano farla in questo periodo, però ormai Il viavai in quartiere non si è fermato nemmeno oggi il nastro che i vigili del fuoco hanno messo per vietare l'accesso ai curiosi non ha impedito a molti di venire a vedere di persona cos'era successo Siccome mio marito è ingegnere abbiamo voluto verificare cosa è successo dal punto di vista diciamo statico Sono venuta anche ieri, però ho preso tanta paura, ho preso Grazie a tutti 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 Grazie a tutti